Sicuramente è una gara straordinaria per noi perché c'è la possibilità per le ragazze, per il club e per tutta la città di approdare e di diventare una delle otto più forti d'Europa. Sentiamo questa emozione e il senso della responsabilità che questa sfida ci dà, per cui è un momento storico, lo viviamo con massima voglia, con massimo entusiasmo e al contempo con estrema attenzione e umiltà. Beh, giocare al Franchi è sicuramente un'esperienza che ogni volta ti regala tantissimo, sono delle emozioni pazzesche, quindi sarà una partita, sappiamo, difficilissima, però è la partita che tutti vorrebbero giocare, quindi non vediamo l'ora di scendere in campo. Dobbiamo rimanere compatte, la questione è rimanere un gruppo e rimanere vicine e compatte sia a livello di gioco che soprattutto a livello mentale. Non dobbiamo mai cedere niente perché sappiamo appunto che sarà una partita difficile, lo sarà dal primo minuto, però se affrontata con la testa giusta possiamo fare qualcosa di grande.